Quali sono i numeri in capitanata per quanto riguarda i reati tramite il web? Sono numeri che fortunatamente sono in leggero decremento e mi riferisco soprattutto agli episodi di cyberbullismo trattati dalla Polizia Postale e anche agli episodi di adescamento. E sicuramente questo è il risultato anche di giornate come quelle di oggi e dell'attività di prevenzione che noi svolgiamo quotidianamente nelle scuole. Quali sono i maggiori consigli da dare soprattutto ai più giovani? Sicuramente l'uso consapevole degli smartphone e in generale delle tecnologie informatiche. Le tecnologie informatiche ci hanno aperto un mondo, ci aiutano in tutte le nostre attività, dall'attività di studio, di ricerca, di svago, di organizzazione, di un viaggio. Però ci sono delle insidie e dobbiamo essere attenti a riconoscerle e soprattutto a soccorrere le persone che si incontrano in difficoltà. Per quanto riguarda gli studenti stiamo dicendo loro che devono innanzitutto segnalare ogni situazione di possibile disagio ai propri insegnanti, alla Polizia Postale, alle forze di polizia e non bisogna rimanere da soli.